Come risolvere così i problemi riguardo a Call of Duty Warzone, qualsiasi Call of Duty che tu scarichi e installi gratuitamente o comprato su Steam, se io adesso vado a cliccare su gioca, mi fa avvio in corso, mi sta ancora su ferma e il gioco non si avvia. Provando anche ad usare così le opzioni di avvio che mi ha consigliato anche Steam, tipo la pagina che ti ho lasciato in descrizione, che tipo tu puoi avviarlo in modalità finestra o modalità schermo intero, oppure semplicemente come puoi vedere non si è avviato il gioco. Quindi se vado direttamente su gestisci, proprietà, opzione di avvio, volevo provare ad avviare il gioco in modalità finestra e non si avvia lo stesso, quindi lo tolgo. Se invece voglio avviarlo in modalità di rendering DirectX 9, 10, 11, se voglio metterlo in 9 metto DX, trattino DX, level, 90. Vado su file installati, poi ai file locali, Call of Duty Warzone, tutti i Call of Duty che hai scaricato su Steam. Questo è Call of Duty, cancella così l'applicazione da 400 MB, Code Crash Handle, cancella pure questo. Crash Logs Generator, una volta fatto facciamo così la verifica e faccio anche la verifica. Installazione è in corso ed eccola qua. 100% completata. Ora il gioco lo possiamo avviare, ma prima di avviarlo, proprietà. Una volta fatta così la verifica integrità dei file, scendi fino a giù, fino a trovare Code. Mostrata opzioni, proprietà, compatibilità. Se per caso si sono abilitate queste due opzioni, togliamo queste opzioni e facciamo applica. Firme digitali. Installiamo il certificato. Visualizza il certificato. Installare il certificato. Chiudiamo qua. E basta. Ora, chiudiamo anche Steam. Nascita Steam. Assicurati anche di chiudere Steam in gestione di attività se ci sono altri servizi attivi. Nessuno Steam attivo qua dentro. Quindi, avvio Steam. Libreria. E ora, premo su Gioca. E il gioco si sta avviando. Ed ecco che il gioco si è avviato, però con nessuna fallita, quindi riprova. In attesa della rete. Il gioco si è avviato. Eccolo qua. Senza nessun problema. Ogni volta che mi succede una cosa del genere su Steam, provo a usare questi passaggi qua. E questi metodi. Quindi, grazie a tutti per questa visione. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.